Allora, adesso parliamo della inurecessio. Inurecessio in realtà era uno dei tre negozi giuridici con effetti traslativi della proprietà, quindi bisognerebbe parlarne appunto quando parleremo dei negozi giuridici, che gli altri due erano l'amancipazio e la tradizio, quindi c'era l'amancipazio, inurecessio e tradizio erano i tre negozi giuridici, che già appunto dall'epoca un po' arcaica, consentivano pertanto il trasferimento della proprietà di una cosa. Come sappiamo, se non si assumeva uno di questi negozi giuridici, in pratica la proprietà non veniva trasferita, ma si poteva ottenere eventualmente solo con il trascorrere del tempo dell'uso capione. Tuttavia, l'inurecessio, ce ne parliamo adesso dopo la registrazione sacramento in REM, perché era appunto modellata su una fase processuale. L'inurecessio anzi era proprio una rielaborazione della giurisprudenza di una fase processuale, che però veniva utilizzata dalle parti con un intento negoziale, anziché processuale, vero e proprio. Quindi le parti si recano in giudizio nella fase in iure, non per promuovere, in realtà per promuovere un giudizio, cioè l'intento delle parti non era quello di promuovere un giudizio, anzi, sapendo già che avrebbero aiutato di promuovere un giudizio, ma avrebbero ottenuto un effetto che sostanzialmente appunto appariva come un effetto negoziale, cioè quello di trasferire la proprietà di una cosa. Infatti, che cosa accadeva nel registratio sacramento in REM? Le parti si recavano in giudizio, no? E c'era la rivendicazio, quindi la rivendica, la rivendicazio di un soggetto, dell'attore, alla quale doveva seguire la contravendicazio, no? Però, come abbiamo detto, potrebbe anche capitare che, anziché, diciamo, susseguirsi la contravendicazio alla rivendicazio, ci fosse l'acquiescenza da parte del convenuto rispetto alla pretesa dell'attore. E allora, quando succedeva questo, cosa succedeva? L'attore spendeva la cosa e la portava a casa. Ed era considerata appunto, se aveva rivendicato la proprietà sulla stessa, la proprietà sulla stessa, cioè, assumeva la proprietà sulla cosa. E quindi questo aveva chiaramente, se c'era appunto, senziché, per venire alla fase apodiudice, c'era l'acquiescenza da parte del convenuto, l'effetto era quello di un negozio traslativo della proprietà. E quindi l'ignorecessio, questo poteva capitare o casualmente, oppure inizialmente doveva sicuramente essere capitato semplicemente nella fase, diciamo, processuale, perché magari convenuto non aveva voglia di rischiare il sacramentum per quella cosa, e poi da questa, diciamo, appunto, dal fatto di prestare a quiescenza, cioè di rinunciare a rivendicare la cosa, da parte di una delle due parti, si è formata poi questa rilaborazione giurisprudenziale che ha consentito, appunto, di utilizzare questa fase processuale con delle finalità invece negoziali. Cioè una parte rivendica, l'altra tralascia di rivendicare e quindi la parte che ha rivendicato senza dover, appunto, affrontare il giudizio, senza dover rischiare il sacramentum, perché il sacramentum si prestava dopo la fase della rivendicazione, se ben ricordate. Quindi dopo che il giudice diceva mettete a boremo le cose, le parti si scambiavano le domande sulle motivazioni che hanno indotto alla rivendica e poi il giudice consentiva che le parti, appunto, prestassero il sacramento. Però, in realtà, appunto, questa fase processuale terminava prima del sacramentum, quindi non si rischiava il sacramentum, ma si otteneva comunque la proprietà sulla cosa. E perché ho detto però una rielaborazione della giurisprudenza? Perché comunque c'erano una serie anche di negozi giuridici veri e propri, che possiamo considerare, diciamo, negozi giuridici veri e propri, di istituti veri e propri che consentivano di ottenere determinate finalità. Una di queste è la manumissio vindicta. La manumissio vindicta è un esempio, appunto, di inurecessio. Cioè avveniva secondo criterio dell'inurecessio. Cioè, se ci si recava in giudizio, no? Per liberare il servo, a me inizialmente, prima che diventasse un atto più informale, o in epoca giustinianea, diciamo, bastasse, appunto, semplicemente rivolgersi al pretore e pronunciarsi sulla libertà del servo in qualunque forma, c'era, appunto, la manumissio vindicta doveva essere effettuata in giudizio, nella fase in jure, e il padrone che voleva liberare il servo doveva trovare anche un cosiddetto ad certo libertà. Cioè, qualcuno che asserisse, appunto, la libertà dello schiavo e verso, nei confronti di quale il padrone stesso avrebbe prestato acquiescenza, cioè, tralasciando di rivendicare a sua volta la proprietà sullo schiavo e consentendo così che lo stesso in realtà diventasse, appunto, un soggetto libero. Però, non so, anche, ad esempio, abbiamo visto nell'addozio alla triplice emancipazio del, comunque, del pater familias, legato, appunto, dal vincolo consanguigno col figlio che doveva essere adottato, conseguiva non una manomissio o anche un emancipazio, come potrebbe avvenire, invece, proprio nell'emancipazio, ma, in questa forma, appunto, di, diciamo, susseguiva da parte delle parti un'ulteriore fase in jure, che, appunto, era sostanzialmente un in jure cesso, cioè, il genitore adottivo reclamava la potestà sull'adottando e il convenuto era il genitore, diciamo, legato da vincoli consanguigni con l'adottando, che prestava, appunto, a quiescenza, rinunciava a rivendicare la potestà sul figlio, che oltretutto aveva già perso per effetto e quindi, in pratica, il figlio andava in potestà al genitore adottivo e si concludeva così l'adozione. Quindi, l'injure cesso, ho detto, era una serie di applicazioni, ma era, comunque, sempre l'assunzione da parte delle parti di una fase processuale per delle finalità esclusivamente negoziate. Questo poi, eventualmente, vabbè, faremo, lo parleremo, eventualmente, anche dopo, quando parleremo dei negozi giuridici.